Benvenuti in un nuovo video, ebbene sì, oggi facciamo insieme un nuovo Mac Bank e ovviamente rispondo a un po' delle vostre domande Oggi andiamo a provare insieme questa Pia Rima Fitto Eccola qui di Rima Benessere Sapete che ho il supplement e me l'ha inviato per il premio ma seguite il vlog, andate a vedere il vlog precedente Che c'è tutto, io bevo perché sapete che ormai ho ancora il problema alla gola, ancora l'influenza, vabbè Oggi ho fatto queste due belle pedine, vi lascio anche i valori nutrizionali di due pedine, va? Vabbè, pensate che due pedine sono 180 grammi e l'ho fatto con lacinato e insalata Volevo metterci anche i fiocchi di latte, però ho detto vabbè, poi alla fine non ci ho messo più Allora, assaggiamo, questo è l'interno E' buonissima Sembra una pedina normale, però i valori, quelli sono quelli che cambiano sono i valori e gli ingredienti Troppo troppo buono Iniziamo con la prima domanda Nicola, un bacione Non farà mai una challenge 15.000 calorie challenge Una 15.000 penso proprio di no Però una 10.000 sia Ragazzi, non mi sto dimenticando di questa challenge perché sono la prima a farla perché voglio provare un po' di cose A parte che concentrerò proprio le mie voglie tipo voglie, che ne so, di carbonara, queste cose qui Concederò, se Raggrupperò tutte queste mie voglie e desideri che voglio proprio, ho proprio il desiderio di mangiarmelo in quel video E quindi raga, devo comunque organizzarmi perché tra la scuola e tutto devo farlo sicuramente un sabato mattina Poi Lisa, dove e come ti vedrai tra 5 anni? PS Sei forte, ti adoro Un bacione grande, grazie Tra 5 anni sicuramente spero con un lavoro di realizzarmi comunque lavorativamente Il mio sogno, cioè vorrei veramente Guardate, forse l'anno scorso a questa domanda ho risposto con un'altra cosa Provando l'esperienza lavorativa in estate Ho capito che quel lavoro che io volevo fare, il lavoro della scrivania, non fa per me E forse lì mi sono chiesta, ok, non fa per te, cosa vorresti fare? Da questa mia domanda, da questa mia grande passione Ho capito che forse Quel mio pensiero dovevo comunque abbandonarlo Non faceva per me E adesso vi dico con la mente chiara, con le idee chiare Mi piacerebbe fare dei corsi Per quanto riguarda personal trainer Anche fare una cosa personale Anche un po' seguire dei corsi E poi informando pure sui corsi per quanto riguarda pure alimentazione Queste cose qua E quindi mi piacerebbe proprio iniziare a assicurare le persone Forse chissà anche a lavorare in una palestra O forse lavorare in una mia palestra A avere una palestra tutta mia Non lo so Però ho un po' di sogni nel cassetto Come sempre Non ti so Vediamo un po' Moreno Quale parte del corpo non ti piace allenare molto? Allora Proprio che non mi piace tricipiti Anche se adesso sto amando un po' questo corpo muscolare All'inizio non tanto Adesso si Sempre lei Comunque è buona E' buonissima Comunque Io la provo così Sempre Moreno mi dice E' importante che il tuo futuro ragazzo Abbia le tue stesse passioni Fitness Alimentazione Sinceramente no Questa cosa passa proprio in ultimo piano Se c'è ben venga Perché è sempre bello condividere qualcosa con una persona Che sia un'amica Sia un fidanzato E' sempre bello Però comunque penso che la cosa più importante In un rapporto In una relazione E' prima di tutto la fiducia Il rispetto reciproco E poi tutto il resto passa veramente In secondo piano Cioè raga Sinceramente passa in secondo piano Perché penso che questa sia una delle cose più importanti E più belle di una relazione Poi Che anche lui si appassionerà del fitness Alimentazione Va bene per lui Però io Non cerco questo tipo di persona Anzi Cioè Basta Sospettando che arrivi la persona giusta Se arriva arriva Se non arriva Non arriva Gaia Ti volevo ringraziare Perché mi era forza Di continuare a combattere Per uscire da un brutto periodo Questa è una delle cose più belle Quando io riesco ad arrivare a voi Quando mi scrivete Che vi confidate Perché io sono un po' la vostra Tra virgolette Tra virgolette Sì Tra virgolette Sì ho detto Tra virgolette La vostra motivazione Mi piace quando mi contattate Se volete dei consigli O state vivendo un brutto periodo E quindi per me Una delle cose più belle Condividere comunque Anche un brutto periodo insieme E cercare di dire Guarda anche io Anche io ho passato Ho trascorso questo periodo Ma adesso ne sono uscita E come ne sono uscita io Può uscire anche tu Che mi stai sentendo Potete uscirne tutti Da questi brutti periodi Per qualsiasi cosa Si esce sempre Basta credere sempre in voi stessi Questo è il motto Che io porterò sempre avanti Sempre 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 avanti Poi Sempre quindi Ti mando un bacione Perché grazie grazie a te Mi fa piacere Un bacione Morena Qual è la tua stagione preferita Preferisco Preferisco il caldo Preferisci il caldo Il freddo Allora raga Dipende Io Preferisco il periodo Che va Da marzo Fino A settembre Un po' basta Poi non mi piace più Cioè per il semplice fatto che Il flima Neanche perché fa freddo Perché è caro malato Quindi non va bene Per l'estate Anche se è l'estate Poi preferiamo l'inverno L'inverno preferiamo l'estate Però raga l'estate perché Mi posso vestire a fighetto No però raga Ditemi voi Se sono l'unica che in inverno Si scoccia pure di vestire Perché ho il pantalone O è maglione E mi scoccio Poi va bene La mia Amoruccia Maggiore Mi vuoi bene Ovvio Non è che ti voglio bene Io ti amo Tu sei la vita mia Se il cuore è mio Poi andiamo avanti Morena Hai provato il kebab Ti piace? Si è molto buono Di solito Prima Prendevo sempre la pizza Con il kebab Buonissima quella Giulietta Penso Giulietta Non so come ti chiami Un bacione Però ti chiami quasi come me Come va la tua vita sentimentale? Mangiamo che meglio La prossima domanda Grazie E non ha gavano male Pensate Che tutti i gasomani Vengono da me Comunque consiglio Per le pedine Non le fate fare Troppe dure Io ho questa abitudine Che la pedina Per me deve essere Duretta Però per la camera Non lo fate Lasciatela sempre Un po' morbida Io ormai ho questo vizio Che va bene Non ha un nome Cioè ce l'ha Però non ha un nome Il creme Sembra banale Ma molto importante Come stai Come procedo in generale Sinceramente bene Sono sincera Un po' di ansia Per questo esame Della patente Ma più che altro Più che altro Perché Voglio prendermela Voglio terminare Voglio concludere Però Niente E Vabbè Ancora niente Bisogna ancora Aspettare un po' Però In generale Va bene Un po' di preoccupazione Per questo Però per la cappa Penso proprio che è normale Ultimo pezzo Allora Angelica Un bacione Voleste avere un corpo Tipo alla Kaila Hitsines Hitsines Ragazzi Non so come si pronuncia Come si scrive Infatti Ve lo lascio qui Quindi magro Ma muscoloso Come devo fare Allora Io ho guardato Questa persona Prima di rispondere A questo video E sinceramente Penso che Dipende sempre Da Che condizioni fisica Una persona a parte Perché Se io tipo Io Vi parlo di me Da questa condizione fisica Voglio arrivare A un corpo come lei Che poi alla fine Non è che Secondo me Forse mi posso anche sbagliare Però per la mia opinione Non è neanche tanto muscolosa Cioè sinceramente Io non la seguo Però vedendo Gambe normali Magre Cioè non è Quelle persone Che vedete Sui social Tutte fisicate Ma Cioè Ha solo la tartaruga E addominali Io chiamo ancora tartaruga Vabbè addominali Ha giusto un accenno Di muscolo Sulle spalle Cioè non è tipo Un corpo che Però se tu Vuoi arrivare A una condizione fisica Come lei Che è nel naturale Nel giusto Va bene Ovviamente Ci puoi riuscire Come scusatevi Ci puoi riuscire Come Come tutte Possono riuscire A portare avanti Un qualsiasi obiettivo Se questo è il tuo obiettivo Il mio consiglio È quello di farti seguire Perché comunque Qualsiasi corpo Qualsiasi obiettivo Che si vuole raggiungere È sempre meglio Farsi seguire Io vi sto parlando Io che non mi faccio seguire E quindi Vi dico sempre Se avete la possibilità Fatevi seguire Anche io a breve Vi farò seguire Però Sto aspettando L'occasione giusta È il momento giusto E poi Vi parlo sempre di tutto Ovviamente Sicuramente Prima su Instagram Perciò Seguitemi lì Giulia mi fitta Federica Un bacione Dolce preferito Allora io Mi piacciono tantissimo I dolci Fatti in casa Tipo La torta di miele Il dolce alle carote La torta alle carote Mi piace tantissimo Il pasticciotto Io raga Con me Io adoro il pasticciotto Fatemi una torta gigante Al pasticciotto Non mi piace tantissimo Allora Lei Ormai io ce l'ho Perché lei E lei ci scriviamo sempre Solo che in questo momento Mi sfugge il nome Non voglio sbagliare A pronunciare il tuo nome Per non fare una figuraccia Comunque lei Ci sentiamo sempre Io consiglio lei E lei consiglia a me Quindi adoro troppo Però scusami Mi viene un nome Ma non lo dico Perché a volte non è il tuo Mi fa Però mettiti nei miei panni Ma io non so Con quanti due panni al giorno E a volte mi ricordo di più Il nickname Che è proprio il nome della persona Quindi te so Scusami Allora Cosa ne pensi delle farine raffinate Sono la tua compagna di creme Sei bravissima E ti voglio bene Anche ti voglio molto di bene Scusami per questa cosa Ma veramente Ricordo il nome Ma non so se è il tuo Quindi scusami Veramente Non è cattiveria Scusami Comunque Sinceramente Penso che si possono utilizzare Tranquillamente Non succede niente Al nostro corpo Ovviamente Come tutti i prodotti Qualsiasi cosa Bisogna sempre moderare Tranquilla Non puoi usare Tranquillamente E Vabbè Lei è la mia compagna di creme Perché Siamo dei pazzi Appena di Porsa Appendente Portano una crema nuova E subito La nostra Perché la dobbiamo provare Vabbè Carolina Quali sono i tuoi progetti Per questo 2020 Un bacione bella Allora I miei progetti E quello di prendere la patente Finire l'anno Scolastico Basta Non ce la faccio più Cercare un lavoretto Vediamo se un po' Prima o dopo Proprio Finito la scuola Migliorare Sempre di più Sugli esercizi E In palestra E niente Vabbè Ci sono anche Tanti altri Però Questi sono proprio Quelli là Principali Arianna Ti è mai capitato Un bacione Ti è mai capitato Di abbuffare Che i tuoi Che i tuoi cheat day Si trasformassero In una buffata No Perché Tutti i miei cheat day challenge Sono tutte Programmate Cioè Cioè nel senso Mi faccio già Il conteggio Di quello che devo mangiare Di come voglio E se voglio Mangio Quindi non si trasforma In una buffata Tipo una cosa Che io Io una buffata La vedo Tipo anche Ok mamma mia Non ce la faccio più Però no Me la devo mangiare Continuo a mangiare In continuazione Anche se il mio stomaco Dice Oh Fermati un attimo Che stai per esplodere Tra due secondi Quindi io così Vedo una buffata A me sinceramente Non è mai successo Tipo di sentirmi Ma neanche con tipo Una decimila calorie challenge Di sentirmi Veramente stomacata E che invece Anche se comunque Io mi sentissi stomacata Dovevo continuare No A me non mi è mai successo Ed è brutto però Quindi Io a me si sta Pillando pure il taso Ma vabbè Giuseppe Un bacione Fai tanto cardio Fare tanto cardio Fa bene Sinceramente Allora Se una persona Deve perdere tanto peso E ha una vita Un po' sedentare Quindi Si scrive in palestra È giusto Che faccia cardio Però È giusto anche Che non fa solo cardio Tipo che in palestra Si fa tre ore cardio A che serve anche No Però fa bene Ovviamente sempre Nel giusto Vi dico io Io vi faccio Il mio esempio Vabbè Mi scrivono già dopo Vi faccio un esempio Io Che in massa Che in definizione Visto che ho comunque Una vita molto attiva Mi capita a volte Di fare Due tre minuti Di tappetino Cinque Ma giusto Proprio realizzato Con la pendenza Però Tipo a fine Si vede Si vede che devo andare A scuola guida Vero E che poi Mi devo andare Allenare Vi farò un post E vi scriverò Le risposte A volte Faccio anche così E quindi niente Spero che questo video Vi sia piaciuto Anche se questo video È un po' improvvisato E quindi spero Che questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao